gli ossiduri ragazzi sono di queste zone diciamo gli ultimi esemplari di ragazzi che suonano cioè che quando dicono che suonano suonano non quelli che dicono suono e poi mettono i dischi beh ormai sono quasi tutti così è un è un dato di fatto non è che quindi state vedendo quasi diciamo dei fossili quasi ma in senso buono allora chi fosse interessato siccome sono dei tipi strani oggi invece di far uscire il dvd e cd hanno fatto uscire questo questo buono che vale 17 euro se comprate questo buono dopo vi inviano il cd e il dvd forse cosa certo che che è illegale scusa altrimenti che che rocca se fai tutte le robe legali che rocca allora non ci si droga più non si è allora che cazzo facciamo il volo potete andare a vedere il volo così grazie 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 grazie